vi chiamo gmf diciamo i nomi reali dai non mi dite che gravi problemi familiari eccetera i vostri nomi reali giuseppe e francesco gravi motivi familiari questo gravi che ha contagiato già siamo noi solidarietà ecco persone e per pascondici oppure i ragazzi questo mi dispiace e allora ragazzi che cos'è che avete preparato adesso ma ciccio preparato un primo a base di pesce poi più tardi andiamo a mangiare tu sai che ci aspetta il naif alla fine della trasmissione ecco infatti il nome del padre allora facciamo sempre un brano rivisitato come di consueto quando Zamparin vedete solo per la città forse voi penserete dove girando va solo senza una metà solo ma c'è un perché aveva il palermo che giocava in serie a combiava mauridi michele guana e tutte le squadre che passavano di là dicevano che forte il palermo in serie a un giorno per distretto guidò lì nel lui cacciò e senza allenatore il palermo si trovò allora cosa fece voi tutti chiederete ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò prese due allenatori per giocare in serie a per golizzi e coppo sono una novità e tutte le squadre che passavano di là ridevano a palermo sono in due ad allenare ridevano a palermo sono in due ad allenare bravi complimenti complimenti cioè ma questa verve cioè questa verve per ora no la verve la bar la verve no la questa verve che vi esce fuori questa fantasia per poter fare queste canzoni così però dietro una disgrazia purtroppo del palermo però il palermo si presta anche anche se è un malincuore purtroppo ma è dobbiamo giocarci sopra